Ben trovati a Orobia Extra, oggi parliamo di noi perché la rivista Orobia compie 25 anni, ne parliamo con il direttore Pino Cappellino, un traguardo importante. Sì, perché non è fatto soltanto di anni o di numeri, ma anche di esperienza notevolissima e di un grande rapporto con il lettore, che come è noto non è soltanto vergamasco, ma è lombardo. Quindi ho un traguardo, ma il traguardo ovviamente è sempre quasi limitativo. Per me è una meta che ci rilancia ancora avanti nel tempo e nei risultati. Come è cambiata la rivista in questi 25 anni? Io ho pescato dall'archivio dell'Eco il primo numero, una piccola perla, primo numero che aveva una sua caratteristica molto formale, ma se pensiamo 25 anni fa era già ad avanguardia. E poi gli affianco l'ultimo numero, che adesso è in edicola, quello di agosto, e vediamo che la differenza è sostanziale in tanti modi, anche per l'uso dell'immagine stessa. Però non è soltanto numeri, perché oltre al fatto di non dare numeri c'è contenuti. Noi abbiamo sviluppato molto di più rispetto al passato l'immagine. Allora l'immagine era sì importante, ma era anche abbastanza, come vedete, un po' limitata. Adesso invece la base e la bellezza di Orobia è fatta proprio dell'alta qualità delle immagini. Ma non è soltanto un venticinquesimo, abbiamo anche un trecentesimo, perché il prossimo numero, quello di settembre, sarà il numero 300. Quindi immaginate la sequenza di 300 riviste di Orobia infiliate in una biblioteca. E penso che qualcuno ce l'abbia ancora. Noi l'abbiamo, al di là di tutto, per dovere nostro professionale, ma anche di grande voglia di avere lì questa storia nostra, che è incominciata 25 anni fa, il primo di agosto, a Crusone, grazie a uno stampatore, editore, Cesare Ferrari, che aveva proprio la magia della carta stampata. Lui ha avviato questa rivista, l'ha sostenuto anche nelle difficoltà enormi, allora perché era diffusa solo in Val Seriana, poi un po' nella Bergamasca, quindi non aveva poi un grandissimo seguito. Poi è stato ancora lui ad avere la forza di dire, la presentiamo a Milano. Prendendola a Milano abbiamo acquisito anche il pubblico dei milanesi, che già la conoscevano perché i pendolari della neve, i pendolari della visura estiva, già la comperavano. E adesso siamo in realtà notevole e consolidata. Il 300 mi piace perché in sostanza è un numero tondo che fa anche effetto. Quando io mi ho fatto il numero 200, ad esempio, avevamo messo in copertina un bel 200 rosso fiammante, perché era anche un modo per far vedere che in sostanza il tempo passa e Orobi si afferma. Proprio a Clusone dove è nata Orobi ci sarà la mostra per celebrare questo 25esimo. Si, si chiama Bergamo Immagini, che ormai è una consuetudine, l'abbiamo cominciata 4 anni fa, con una mostra su Tito Terzi, che è stato il fotografo fondatore della rivista e anche quello che ha inventato il fotoreportage nella Bergamasca. Allora c'era soltanto Papi Merisio, ma lui raramente si proiettava nei fotoreportage. Invece Tito Terzi era uno che camminava, camminava tutto un giorno per portare a casa magari due fotografie, ma di altissima qualità. Facciamo questa mostra che poi dopo da Clusone la presenteremo anche a Bergamo, ma direi di dare atto veramente a questo editore che in condizioni anche di notevoli difficoltà ha avuto il coraggio, la fantasia e il cuore di grande editore di fare la rivista Orobi. Adesso la rivista Orobi naturalmente non è più sua, adesso è del gruppo SESA e quindi è in un'altra realtà e quindi è in realtà molto più concreta perché ha la possibilità di agire su un territorio vastissimo come la Lombardia. Allora invece era la seriana, erano i villeggianti, era Bergamo, era un po' la bergamasca, però i consensi che c'erano allora li abbiamo moltiplicati e direi che sono stati 25 anni ben spesi. Questa mostra si intitola La grande bellezza e la bellezza è proprio, la ricerca della bellezza è l'obiettivo di Orobi. Bellezza spesso vicino a casa ma magari poco conosciuta. Sì, direi proprio la bellezza, io insisto nel dire che la bellezza molte volte, anzi più volte, è dietro l'angolo di casa. Facciamo una camminata di inferno per andare a vedere un posto e ci dimentichiamo che invece tra la casa e quel posto bellissimo ci sono altre possibilità di vedere luoghi altrettanto interessanti. Poi la ricerca del bello è sempre positiva, cioè presentare il bello, abituare la gente realmente al bello e apprezzarlo e conoscerlo, credo che sia uno dei nostri vanti e come Orobi abbiamo sempre seguito questo obiettivo. Adesso poi la fotografia digitale ci consente di lavorare molto di più con le immagini rispetto al passato che c'era la diapositiva che bisognava stare molto attenti come si usava l'immagine invece se il digitale realmente consente dare le possibilità inimmaginabili solo a 20 anni fa, 25 anni fa. Il Tito Terzi, che io ricordo sempre con grande affetto, quando lui uscìva per fare una fotografia magari sta a vengere un giorno intero. Adesso nel bene e nel male si possono fare 50 scatti su un solo soggetto. Guardiamo già i 25 anni che vengono, che arrivano adesso. Beh, sono 25 anni non facili perché sta cambiando un po' tutto, anche la consuetudine della gente. Io ricordo che ai primi tempi c'era gente che faceva le fotocopie delle pagine di Orobi e poi andava in giro e guardava e verificava. Adesso invece c'è Internet che dà la possibilità enorme. Appunto, grazie a Internet abbiamo inserito anche il sito di Orobie sul quale il lettore può seguirci in questa ricerca sul territorio a quale poi partecipano moltissimi appassionati tra cui un gran numero di fotografie che postano le loro immagini su questo sito. Quindi è un interccio veramente interessante e per il futuro mi auguro che sia realmente lì questo interccio lo sviluppo e la crescita nostra stessa come giornalisti per l'editore e per la crescita della rivista. Grazie direttore, grazie a voi a casa. Al prossimo appuntamento.